Paura durante la notte in via Balla a Campodoro per un incidente stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle tre per uno scontro tra tre auto. Una persona è rimasta ferita. I pompieri, intervenuti da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi e controllato che non vi fossero altre persone coinvolte, oltre ai tre conducenti usciti da soli dalle automobili. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.